Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In A1, 9 km di coda per incidente al km 310-600, tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna. Per i veicoli leggeri e le brevi percorrenze, si consiglia di uscire ad Incisa, seguire le indicazioni Ponta Seve Firenze e corri entro in autostrada a Firenze Sud. Per le lunghe percorrenze, uscire a Valdichiana, prendere il raccordo Siena-Bettolle in direzione Siena e la Siena-Firenze in direzione Firenze, con rientro in A1 a Firenze in Pruneta. Coden uscita a Firenze Sud, provenendo da Bologna. In FIPILI, Coden uscita a Firenze Viadotto all'Indiano, provenendo da Livorno. A Firenze per la tramvia, al Via Stasera, i lavori di rifacimento della pavimentazione in Viale Belfiore, nell'area dell'intersezione con Via Marcello e Galleredi. Divieti di transito e restringimenti di carreggiata in orario 21.6. Ed è tutto, buon viaggio!